Si può motivare una persona demotivata? A volte sì. Esistono delle strategie di motivazione che possono applicare praticamente tutti. Benvenuti in Perle di Coaching, io sono Moro Pepe e in questo video parleremo di motivazione, della persona motivata e di come motivarla. Partiamo dalle definizioni. Motivazione è la ricerca dei motivi o dei perché che spingono all'azione. Motivare, trovare proprio questi perché e questi motivi. Persona demotivata è una persona che non ha nessun motivo o nessun perché per compiere quell'azione. Qual è l'obiettivo principale del motivatore? È aiutare la persona che ha di fronte a trovare il motivo per compiere quell'azione o fare un cambiamento, quindi spingere all'azione la persona che ha di fronte. Ed esistono due grandi tipologie di motivazione. La motivazione esterna, lo stimolo esterno quindi, o la motivazione interna, dei motivi che partano da dentro. E se lui non vuole? E se la persona che deve essere motivata non vuole essere motivata? Allora, partiamo dal presupposto che la porta si apre da dentro. Quindi se una persona demotivata non vuole essere motivata, non vuole fare alcune cose, difficilmente possiamo motivarla. Anche se però esistono delle strategie che possono motivare anche una persona demotivata. E alla fine di questo video ti svelerò una delle strategie più potenti che esistono per sviluppare la motivazione interna della persona a cui stiamo parlando. Chi sono i motivatori? I motivatori sono tutte le persone che cercano di convincere qualsiasi altra persona di una propria idea, cercano di spingere a fare qualche cosa o cercano di spingere a fare un cambiamento. possono essere i genitori, gli allenatori, gli atleti, magari il capitano di una squadra, dei manager, degli imprenditori, una persona all'interno di un gruppo che vuole convincere gli altri ad andare al cinema a vedere un film specifico, in quel caso lì un motivatore. Cioè chiunque voglia convincere gli altri di una propria idea o spingere a fare un'azione specifica. Il motivatore deve cercare di trovare una motivazione, quindi un motivo che spinga all'azione. E spesso esistono due tipologie, come abbiamo detto, le motivazioni esterne e le motivazioni interne. Le motivazioni esterne funzionano solo quando la persona che abbiamo di fronte è predisposta ad essere motivata. Sta cercando anche lui le motivazioni e quindi effettivamente è predisposta. Quando l'altra persona non è predisposta ad essere motivata, le motivazioni esterne non funzionano. Questo è uno degli errori principali che fanno molti allenatori che vogliono caricare sempre i loro atleti. Non sempre l'atleta va caricato. Ci sono dei momenti in cui è predisposto ad essere caricato e in quel momento lì è completamente pronto. Quindi tu lo carichi, lui si carica ed è pronto a dare il suo massimo. In alcuni altri momenti l'atleta non è predisposto ad essere caricato, ma ha bisogno di altre cose e in quel momento lì il fatto che l'allenatore lo sta caricando crea un distacco, anzi gli dà veramente fastidio e spesso si creano degli scontri. L'allenatore si risente perché magari pensa che l'atleta non si impegna abbastanza e non ci tiene, l'atleta da parte sua pensa che l'allenatore non mi capisce. Tutto questo perché la persona non è predisposta ad essere motivata con una motivazione esterna, mentre la motivazione interna funziona sempre. Sempre. Se troviamo il modo di far trovare una motivazione alla persona che abbiamo di fronte, farà l'azione che deve fare, perché quella motivazione non è nostra, sarà la sua e quindi sarà decisamente più potente. Chi è il grande motivatore? Il grande motivatore è quello che fa tre cose in particolare. La prima cosa è rafforza l'autonomia della persona a cui sta parlando. Significa praticamente fargli capire che la responsabilità della scelta sta in lui, che lui dovrà scegliere, che lui è l'unico che può prendere la decisione e che non lo deve fare per me o per qualcun altro, ma lo deve fare solo per se stesso. Questo significa rafforzare l'autonomia ed è la base per poter creare una vera motivazione. Due. Il grande motivatore si occupa di far uscire dalla persona che ha di fronte la sua motivazione interna, perché è quella che funziona davvero tanto. Tre. Il grande motivatore utilizza tante strategie diverse di motivazione, partendo da quelle più comuni, che possono essere la comunicazione persuasiva, oppure attraverso la logica, anche se però non funziona sempre perché è una motivazione esterna basata su un modello del mondo diverso da quello della persona a cui stiamo parlando. Oppure attraverso degli stimoli esterni, che possono essere delle parole che ti caricano, dei filmati o la musica motivante. Oppure ci sono delle strategie, delle tecniche di sviluppo di motivazione interna. E ora, come ti avevo promesso prima, alla fine del video ti spiego qual è la strategia speciale per poter motivare e sviluppare la motivazione interna anche a persone che sono demotivate. Ovviamente, dopo aver rafforzato la sua autonomia, la strategia è quella dei 5 perché. È complicata come strategia, io ti spiego in maniera didattica il principio. Mettiamo il caso che una persona non voglia compiere un'azione. La prima domanda, il primo perché, è perché per te è importante compiere questa azione? Generalmente, quando fai questa domanda, l'altra persona non ti risponde subito, oppure è tergiversa, oppure ti dà una risposta generica. Ad esempio, potrebbe risponderti, eh perché così mi facilita la vita. Allora, a quel punto lì è fondamentale andare oltre. Quindi dire, e perché ti facilita la vita? Anche lì potrebbe non risponderti con qualcosa di importante. E magari potrebbe dire, eh beh, perché è ovvio, mi facilita la vita perché non litigo con gli altri e quindi sto più tranquillo. E perché per te è importante stare tranquillo? E soprattutto perché è importante non litigare con gli altri? Andare avanti con i perché, ovviamente ogni tanto cambiando anche la forma della domanda, fin quando non esce qualcosa di veramente importante. Per esempio, potrebbe uscire, eh perché così mi sentirei davvero fiero di me stesso. Ecco. Già questa è una risposta di potere. Già lì ha cacciato un motivo interno. E stiamo sulla buona strada. Con altri perché, con altre domande, lui potrebbe trovare altri motivi. Non miei, ma suoi per ottenere il cambiamento o compiere quell'azione. Mi auguro questo video ti sia piaciuto. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube, cliccando anche sulla campanellina per le notifiche. Oppure seguimi sulla mia pagina Facebook mettendo mi piace, ma anche a fianco, segui la pagina e mostra per primi. In modo tale da non perderti i miei video. Per tutti il resto ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!